Alla 13 agosto nel Cilento di Scena, segreti d'autore, festival dell'ambiente, delle scienze e delle arti a cura di Ruggero Cappuccio, dopo Gigi Proietti e Franco Batteato a Castellabate, incontro con Tosca d'Aquino, poi il 27 a Serra Mezzana, Raffaele La Capria racconterà al pubblico la sua avventura creativa di scrittore e sceneggiatore, il 31 a Stella Cilento, Lucrezia Lerro presenterà il romanzo Il Sangue Matto, tra gli altri ospiti l'Ellorena Peppe Servillo, Capone con i Bungt e Bungt. Ora parliamo di medicina con nuovi appunti.